Non c'era elettricità, così io leggevo alla fioca luce di una candela, aggomitolato nel letto qualsiasi cosa trovassi da leggere. Era la Bibbia in portoghese, e nuovamente lessi la prima lettera ai Corinti. Rileggendola alla luce di una candela, ma sopraffatto. Non sono nulla, una pura fantasia. Cosa aspettarsi da me stesso e dalle cose di questo mondo? E se non ho, ha avuto amore? E se non ho, ha avuto amore? Oh mio Dio, io non ho amore. Oh mio Dio, io non ho amore. Pessoa a dicembre 34, poco prima della sua morte. E seppure ho il dono della profezia, e seppure posso penetrare tutti i misteri e tutte le dottrine, e se anche possiedo una fede tale da smuovere le montagne, ma non ho avuto amore, io non sono nulla. Nulla. Già, questo è il punto. è il punto. Non è vero. Grazie.